La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Essa esprime un consenso su quali sono gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia. L'Istituto Comprensivo Surico di Castellaneta, con l'iniziativa promossa questa mattina, a 25 anni di distanza, ha voluto ricordare questa data, dando vita ad una marcia per i diritti. 25 anni fa l'ONU approvò la dichiarazione dei diritti dei bambini e oggi l'Istituto Comprensivo Surico ha voluto ricordare questa data con la marcia dei diritti dei bambini, coinvolgendo gli alunni delle scuole dell'infanzia e gli alunni della scuola primaria. Prima di questa marcia, nel plesso centrale dell'Istituto Surico, è stato piantato l'albero dei diritti. In questo modo abbiamo voluto ricordare anche la giornata degli alberi e quindi unire nello stesso tempo il diritto all'ambiente e i diritti dei bambini, il diritto all'istruzione e il diritto ad avere una vita serena e felice, non solo a Castellaneta ma in tutto il mondo. I bambini e i ragazzi hanno dei diritti, più saranno disposti ad aiutarci, ad avere tutto ciò che ci serve per crescere sani, sicuri e liberi.